Fabio Rossi è il nuovo presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Tabacco di Confagricoltura. Imprenditore agricolo con un'azienda di circa 200 ettari a prevalenza indirizzo tabacco, cerealicolo, zootecnico in Umbria, Rossi è presidente dal 2006 della Fattoria Autonoma Tabacchi, azienda storica del settore del tabacco nata nel 1911 e operante in Alta Valle del Tevere nella produzione e trasformazione del tabacco nel settore cerealicolo e nelle energie rinnovabili. Rossi è anche presidente dell'Opta, organizzazione di produttori di tabacco operante principalmente in Umbria. Nella nostra filiera che comprende anche la trasformazione diventa oggi molto importante anche una difesa a livello nazionale della nostra filiera, per cui è importante che ci sia l'impegno da parte mia come anche di tutte quelle che sono i rappresentanti di confagricoltura nelle varie aree tabacchicole e delle varie varietà, delle singole varietà a difesa del settore in tutto il suo componente della filiera, questo perché appunto diventa un fattore fondamentale per poter continuare a coltivare. Non è solo il produrre tabacco di qualità, tabacco pulito, tabacco rispetto all'ambiente, le energie rinnovabili, tutte queste cose qua, ma bisogna anche fare in modo che poter mantenere i nostri posti di lavoro e poter interloquire in sede comunitaria, in sede prima di tutto regionale, ma anche nazionale, comunitaria, per poter mantenere il nostro settore. Siamo a migliaia di posti di lavoro in Umbria, milioni di euro che arrivano dall'estero per mantenere appunto i nostri posti di lavoro, questo è un impegno che tutti insieme e anche io per la mia piccola parte dobbiamo cercare di fare per mantenere questa situazione. Grazie a tutti.